Roma la sera dei miracoli sarà lo sport il protagonista del nuovo appuntamento promosso dall'Associazione Cultura Nazionale in programma per il prossimo 28 settembre alle 21 al Feltrinelli Point, ospite della serata l'autore del libro Francesco Repice. La storica voce di Radio Rai, personaggio molto importante della Rai, viene a presentare questo libro che è una bellissima pagina sportiva di un'impresa di una squadra italiana che è riuscita a ribaltare contro una grandissima squadra come il Barcellona un 4-1 subito al Camp Nou. Viene a presentare questo bel libro che è un libro di passione, un libro di grandi fotografie, un libro che racconta questa storia, un'impresa epica di una squadra italiana che non è solo rivolta ai tifosi della Roma ma a tutti i tifosi dello sport, a tutti i tifosi di questo grande sport che è il calcio e quindi possono venire a sentire dalla viva voce di Francesco Repice che ripeto è un grande personaggio questo bel libro. Domani sera è il secondo di ben 13 eventi in 7 mesi, avremo grandissimi personaggi, si va da Toni Caprarica al Comandante Alfa, a Cacciari, a Capuozzo, a Steffenoni e vi do un'anteprima. Il 6 di ottobre con la presentazione del libro Il caso Tortora di Steffenoni tornerà a trovarci la compagna di Tortora, Francesca Scopelliti che ha accettato con grandissimo entusiasmo il nostro invito.